Finanziamento di un milione di euro per l'adeguamento e la messa in sicurezza della SP 416 nel tratto Cioffi-Aversana e quanto disposto dalla Regione Campania, che con apposito decreto ha inserito tale arteria fra i progetti finanziabili. Ad esultare il gruppo consigliare del Partito Democratico, che in una nota ha evidenziato il lavoro straordinario di sinergia e collaborazione istituzionale che produrrà i suoi frutti sui diversi territori regionali e sulla nostra città, finanziando un intervento importantissimo e non più rinviabile. Si tratta di un progetto fondamentale di ammodernamento e messa in sicurezza di un asse viario importantissimo per migliorare e facilitare il collegamento tra la strada statale 18, la SP 417 e le altre strade secondarie al servizio delle numerose aziende agricole e non presenti sul territorio. Ringraziamo il Sindaco e gli uffici preposti, conclude la nota dei Democrat, per il prezioso lavoro svolto al fine di consentire il raggiungimento di questo importante risultato per la crescita e lo sviluppo.